Oggi inauguriamo Legal for Business che è un nuovo ciclo di incontri per avvicinare i colleghi del business a concetti legali che spesso vengono percepiti come complessi da comprendere o come ostacoli. Invece il senso è quello di avviare una serie di incontri, oggi ospitiamo il Garante per la Privacy. Noi siamo convinti che la cultura della privacy debba essere diffusa in azienda e anche verso i nostri clienti perché dobbiamo essere consapevoli che nel momento in cui il cliente ci autorizza il trattamento del dato ci sta facendo un regalo enorme e come qualunque regalo va trattato con cura e va rispettato. Per fare un esempio pratico, la profilazione di un cliente che spesso viene vista con un'accezione negativa. Se io sono consapevole che l'azienda mi profila, sono anche consapevole che quell'azienda mi potrà fornire un servizio che è più a misura delle mie esigenze. Quindi abbiamo pensato questo Vademecum mettendoci nello stesso momento dalla parte del cliente e dell'azienda cercando di tradurre in modo semplice una normativa e dei concetti che possono essere molto complessi. Questa di oggi è un'altra tappa, un'altra occasione significativa, anche la presenza numerosissima di rappresentanti delle aziende, imprenditori, giornalisti. Lo testimonia, testimonia il fatto che non è solo da parte di Sorgenia ma è da parte di tutta la società che c'è bisogno di un confronto per affrontare i temi del cambiamento di questi anni guidati dalle tecnologie. È un desiderio forte il nostro quello di ascoltare prima di tutto e di dare il nostro contributo al dibattito e alla conoscenza per affrontare in maniera più consapevole e efficace le sfide che il mercato ci pone davanti ogni giorno.